Buongiorno e buon inizio di settimana ancora una volta in nostra compagnia per iniziare una settimana di cronaca ma anche di leggerezza ci avviciniamo a passi spediti verso il weekend dell'8 dicembre che segnerà l'inizio delle festività di Natale e per il nuovo anno che arriverà si comincerà con tante iniziative qui a Dudine e non soltanto qui a Dudine in tutta la regione e noi in questo mese daremo uno spaccato di quello che succederà seguiremo tutti gli eventi e presenteremo nei nostri spazi con Antonella Arlotti delle produzioni e degli argomenti prettamente natalizi. Antonella buongiorno. Buongiorno Francesco vedo che sei così pronto per il Natale manca ancora qualche giorno ma stiamo preparando davvero tantissime rubriche e ospiti dedicati a questo argomento quindi sicuramente ci sarà da brillare. Allora adesso cominciamo subito con una notizia importante facciamo vedere intanto proprio il sito internet della nostra tv perché pubblichiamo quella che la notizia c'è anche il sito del sole 24 ore perché Udine è la provincia la provincia di Udine è la provincia con la qualità della vita più alta prima in classifica da una classifica redatta secondo alcuni parametri che poi approfondiremo stilata dal sole 24 ore in particolare in particolare prima in classifica per la condizione delle delle donne per la giustizia per il welfare ed anche per le attività sportive dunque una città che secondo la classifica stirata la sole 24 ore in questi settori grazie a questi settori in cui le cose evidentemente secondo i parametri raccolti e analizzati la sole 24 ore permettono una qualità della vita molto alta nella città e in genere nella provincia di Udine. Abbiamo intervistato subito il sindaco Alberto Felice De Toni questa mattina tra l'altro il sindaco ha convocato subito una conferenza stampa in comune per fare il punto stampa e commentare proprio questa notizia che ha pubblicato oggi il sole 24 ore sentiamo il sindaco De Toni intervistato a Luca Ursig. Sindaco Alberto Felice De Toni la città di Udine la provincia di Udine si sveglia ritrovandosi al primo posto nella graduatoria della classifica stirata dal sole 24 ore per la qualità della vita in Italia. Come avete accolto questo risultato? Beh allora è evidente che siamo molto elusingati ed è evidente che per noi è stata una piacevole sorpresa sapevamo che saremmo entrati nella top 10 perché negli ultimi tre anni eravamo sempre posizionati tra il nono e il sesto posto eccetera e quindi contavamo in un buon posizionamento ma effettivamente il primo posto è stata una grande bella sorpresa e come sempre il buongiorno si vede al mattino. Un risultato che ora andrà consolidato tanti problemi anche riscontrati soprattutto per quanto riguarda la sicurezza soprattutto in città in questi ultimi mesi come conservare questo primato? Attenzione che sulla sicurezza e la giustizia siamo quarti in Italia e questo radice lunga sul fatto che comunque il livello è molto elevato stiamo comunque lavorando stiamo lavorando sulla sicurezza partecipata abbiamo una bozza di un protocollo d'intesa col prefetto e tutte le forze di polizia dalla questura ai carabinieri la guardia di finanza la polizia locale e quindi stiamo lavorando per prevedere i poliziotti di quartiere per prevedere una app tramite la quale i cittadini abilitati potranno comunicare alle forze dell'ordine delle situazioni diciamo di disagio di pericolo e quindi stiamo lavorando in quel senso lì stiamo lavorando anche sui quartieri partecipanti stiamo immaginando di riconoscere i rappresentanti delle associazioni ricreative culturali sportive rappresentanti delle parrocchie quindi una realtà dinamica aperta e anche lì la parola chiave è partecipazione intelligenza distribuita visione condivisa sistema sistema di valori condivisi questo è quello che rende coesa e forte una città tra questi valori anche quello della formazione come siete organizzati da questo punto di vista il tema dell'educazione la nostra città è una città che vanta non soltanto una università che è come sempre tra le prime università delle medio grandi delle università medio piccole ma abbiamo fior di istituti dal Malignani all'Ucellis all'Ostellini al Copernico e non voglio dimenticare nessuno quindi abbiamo una fortissima e per non parlare appunto anche degli asili delle squadre di infanzia perché anche su questo siamo molto avanti siamo a oltre il 56% di copertura quando l'Unione Europea richiede il 45% anche su questo nella classifica verso 24 ore siamo usciti molto forti e quindi come sempre lavorare su più leve con orientamento sempre di sostegno alle categorie più fragili aumento della coesione sociale contrasto alla povertà paga sempre e allora torneremo a parlare di questo nei prossimi giorni raccogliendo i vari dati analizzandoli settore per settore con chi se ne occupa chi segue i vari settori anche la giustizia per esempio per la giustizia civile Udine è stata sicuramente premiata per la rapidità di quello che avviene nei nostri tribunali la provincia di Udine, Udine è la provincia di Udine per quanto riguarda le cause civili. Abbiamo adesso due donne infreddolite in attesa di collegarsi con noi per poi mettersi in moto e riscaldarsi e quindi sicuramente superare questo momento allora eccole qui Angela Caino mi metto in mezzo qui Angela Caino e Barbara Venuti cominciamo con Angela che si trova proprio in mezzo alla neve quindi sicuramente un pochino più infreddolita di Barbara, Barbara arriva da te tra poco, parliamo con Barbara e con Angela di due problemi di viabilità, uno molto grave che è quello dell'interruzione della strada dopo la frana di ieri in montagna che ha spezzato in due praticamente il collegamento con l'Austria che è irraggiungibile su quella direttrice, l'altro problema di viabilità è quello che invece riguarda la città di Udine, meno grave ma comunque che fa riflettere le problematiche della mobilità sostenibile, ciclabili e percorsi pedonali. Angela Caino allora dove ti trovi in questo momento e com'è la situazione. Buongiorno Francesco, a te e a tutti i nostri telespettatori, io in questo momento mi trovo a Timau sulla strada che porta al passo di Monte Croce Carnico che come hai detto è chiusa al traffico a seguito della frana che è caduta nella notte fra venerdì e sabato lungo la strada statale 52 bis Carnica, vedete alle mie spalle la creta di collina, il passo di Monte Croce Carnico si trova alla sinistra della montagna fra le due pareti rocciose che vedete sopra il boot che corre alla mia destra. Come dicevi la strada è chiusa a causa di questa frana, adesso si sta cercando di capire come intervenire, ieri c'è stato un primo sopralluogo dei tecnici dell'ANAS, domani ce ne sarà un altro, la sensazione che i tempi per il ripristino non saranno brevi, noi tra poco andremo a sentire anche il sindaco reggente di Paluzza per cercare di capire cosa si sta facendo in queste ore e sentiremo anche i cittadini del posto perché la chiusura della strada che porta al passo di Monte Croce ha riaperto il dibattito sulle alternative a questa strada per collegare il Friuli Venezia Giulia con l'Austria, il tunnel di cui si parla davvero da decenni ma c'è anche l'ipotesi di una strada alternativa che proprio in seguito alla chiusura di questi giorni potrebbe ritornare d'attualità. Insomma Francesco cercheremo di capire com'è la situazione, cosa si sta facendo per risolvere e anche quali possono essere le alternative concrete alla strada attuale che porta al passo di Monte Croce Carnico e quindi all'Austria. Per il momento è tutto, da Timauti restituisco la linea, ci rivediamo come sempre più in là nel corso di questa nostra diretta. Grazie, grazie Angela e naturalmente sottolineiamo il fatto che per miracolo nessuno si è fatto male perché la frana lì sulla strada ha distrutto la strada, pensate un po' se in quel momento passavano delle autovetture lì, sarebbe stato sicuramente molto 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 pericoloso. Da questo punto di vista invece per fortuna non è successo nulla, guardate ancora la parete rocciosa che è franata completamente, c'è stato anche riferito a quanto si apprende che quella parete rocciosa era monitorata da parecchio tempo, era una parete rocciosa sotto osservazione come tante altre località e pareti rocciose della nostra regione che per quanto riguarda il rischio di crolli e di frane come quella che è avvenuta sono tenute costantemente sotto monitoraggio. Andiamo da Barbara Venuti dove si parla invece come dicevamo di piste ciclabili e di percorsi pedonali, ce ne sono di nuove, ce ne sono di vecchie ma tutte mi sembra tutte forse no ma una buona parte mi sembra che abbiano una cosa in comune, ci sono delle problematiche trassenzi unici, insomma non si capisce nulla in certi casi, segnalazioni poco chiare, tutto questo ovviamente mette in pericolo pedoni e ciclisti ma anche gli automobilisti che poi si trovano a avere a che fare con delle situazioni poco chiare e rischiano di essere responsabili di incidenti. Barbara. Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco, buongiorno Antonella. Eh sì, il comune denominatore è che molte di queste ciclabili non hanno né capo né coda. Eh io sono in via nazionale già all'interno quindi del comune di Feletto, alle mie spalle la rotonda che porta a Cavalicco quindi Reana a Tricesimo e davanti a me la rotonda del Terminal Nord che segna appunto il confine del comune di Udine. Siamo qui con una ciclabile che praticamente è nel nulla, che è stata diciamo così messa a terra ed è in funzione già da un anno abbondante, era stata approvata ancora dalla vecchia giunta con uno stanziamento non da poco e tra l'altro abbiamo recuperato alcune dichiarazioni del passato in cui la volontà e l'interesse diciamo lo scoprono anche quelli del recupero faunistico e del recupero in termini così diciamo scenografici eh non mi pare perché sinceramente non non è né funzionale né esteticamente bella anzi eh sicuramente più pericolosa che funzionale quindi eh ci sentiamo dopo Francesco da via nazionale a Feletto. Grazie grazie a Barbara Venuti noi andiamo avanti adesso con la cronaca intanto vi faccio vedere un una notizia sul sito dell'Ansa perché eh c'è stato un tentativo di rapina di un portavalori sull'autostrada A4 nel tratto fra Milano e Torino quindi non non interessa il tratto della nostra regione ma comunque pensate un po' succedono ancora queste cose in autostrada dei tir di di traverso sulla Milano Torino vicino al ponte sul Ticini i rapinatori sono in fuga poi c'è stato un altro episodio in Sardegna con un altro assalto ma andiamo a leggere nel dettaglio quello che è accaduto sulla A4 una tentata rapina questa mattina è avvenuta intorno alle 6.30 un furgone portavalori era diretto verso Torino il mezzo ha subito un tentativo di blocco vicino al ponte sul Ticino al confine fra Lombardia e Piemonte in territorio della provincia di Novara il tentativo sarebbe avvenuto tramite un automezzo pesante messo a bloccare le corsie pensate un po' i rapinatori hanno hanno preso un tir e l'hanno messo di di traverso l'autista del furgone secondo le prime informazioni con prontezza di riflesso è riuscito a evitare il blocco riuscendo a fuggire a dare d'allarme sul posto è arrivata subito la polizia sono formate lunghe code in autostrada essendo state coinvolte entrambe le carreggiate il tir protagonista del tentativo di bloccare il portavalori è rimasto ancora fermo lì gli investigatori stanno lavorando per capire quante fossero le persone per il colpo in autostrada la A4 intanto è stata parzialmente bloccata in entrambe le direzioni nel tratto interessante nel tentativo di rapina che come detto ha provocato anche delle delle codi malviventi hanno tentato di bloccare il furgone con un tir sulla A4 come diciamo a Novara sono in fuga la polizia stradale li sta cercando tra il Piemonte e la Lombardia e ancora per la cronaca vediamo il servizio di Luca Ursig che ci riepiloga alcuni fatti avvenuti tra ieri pomeriggio ieri sera nella giornata di sabato l'altro ieri chiedo scusa fra sabato e sera e domenica con una raffica di furti che ha interessato alcune attività commerciali in provincia di Udine Luca Ursig si cela dietro un passamontagna l'identità dei malviventi che si sono resi protagonisti di furti e rapine a mano armata ai danni di uffici commerciali e abitazioni private della regione a finire nel mirino dei ladri è stato il supermercato Eurospar di via Zorutti a San Giovanni al Natisone dove intorno alle ore 19.40 due soggetti dal volto trafugato con indosso tude da meccanici e in possesso di armi corte hanno minacciato le cassiere del negozio facendosi consegnare l'incasso di giornata pari a 2.200 euro i banditi si sono quindi date alla fuga prima che sul luogo potessero sopraggiungere i carabinieri di Palmanova e della locale compagnia impegnati ora nell'indagine volta a risalire all'identità dei responsabili momenti di alta tensione quelli vissuti anche dal gestore della trattoria alla frasca di povoletto che poco dopo la mezzanotte appena in seguito alla chiusura del locale è stato avvicinato da un uomo dal volto coperto che coltello alla mano lo ha minacciato obbligandolo a consegnare il proprio borsello una volta impossessatosi dell'area furtiva il rapinatore è salito su un'automobile guidata da un complice facendo perdere le proprie tracce nel borsello erano contenuti i proventi delle ultime giornate di lavoro per un ammontare di 6.800 euro l'imprenditore quarantenne ha quindi chiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di remanzacco che stanno tentando di ricostruire gli spostamenti della vettura anche attraverso le videocamere installate all'esterno della trattoria un escalation di furti cominciata appena qualche ora prima colpendo numerose abitazioni del comune di rivignano teore dove tre residenti hanno denunciato la sparizione di oggetti preziosi dalle rispettive dimore un uomo classe 1977 ha segnalato la locale stazione dei carabinieri l'indebita visita di malviventi che attraverso l'infrazione della porta d'ingresso si sono introdotti nella casa asportando molini in oro del valore di 1.500 euro furto di preziosi in oro in argento per un totale di 1.000 euro anche in un'altra residenza di rivignano nella quale i ladri hanno creato la via di accesso forzando una finestra così come avvenuto anche in un terzo caso dove i delinquenti si sono impossessati di un computer portatile e di una maglietta sportiva autografata dal calciatore diego armando maradona nella circostanza sono state avviate approfondite indagini da parte dei carabinieri di rivignano in collaborazione con il nucleo operativo di latisana adesso passiamo invece all'aggiornamento sul femminicidio di giulia cecchettin domani si svolgeranno i funerali della giovane ragazza la ex fidanzata di filippo turetta che nel frattempo gli ha incontrato i genitori in carcere un colloquio che è durato circa un'ora diamo intanto un'occhiata come facciamo ogni mattina ai titoli del giornale che si occupano di questo in particolare il gazzettino che ha annunciato che domani il papà di giulia parlerà ai funerali parlerò per giulia il dolore di papà gino non sono bravo con le parole ma sto scrivendo un testo e domani quindi parlerà alle eseque della figlia che si terranno con una partecipazione di almeno 10.000 persone filippo incontra i genitori sollevato non sono solo e lo hanno incontrato dopo aver rinunciato all'incontro la scorsa settimana poi si sono convinti evidentemente che era il caso di andare a trovare il figlio in carcere e ci sono andati e lui si è sentito sollevato come dichiara qui e andiamo a vedere ancora sempre sul gazzettino di papà gino il papà di giulia ai funerali parlerò per lei prepara un messaggio inviti personali per le eseque di domani la famiglia chiede grande partecipazione il parroco dice in quella casa tanto amore dopo santa giustina commiato a saonara e poi ancora a filippo l'abbraccio con i genitori sollevato ora sono non sono più non sono più solo i turetta hanno atteso fino a ieri per incontrare il figlio detenuto a verona solo un'ora di colloquio e poi una visita blindata garantita una stanza protetta piange e chiede scusa non potrete mai perdonarmi la punto nera intanto qui facciamo il punto sulle indagini usata per la fuga tornerà in italia a metà mese non sono previsti altri interrogatori da parte del pubblico ministero ma abbiamo un servizio che dipiloga tutto dai funerali alle indagini dei colleghi di tele 4 antenna venita andiamo a sentire le ultime notizie 15 mila persone tante se ne attendono per il funerale di giulia cecchettin in programma martedì alle 11 nella basilica di santa giustina a padova è stata scelta una delle chiese più grandi d'italia direttamente dalla famiglia che ha chiesto a tutti di essere presenti proprio per lanciare un messaggio di grande partecipazione ai cronisti il papà di giulia raccontato che sta preparando personalmente uno per uno i biglietti per gli inviti alle esequie e che sta scrivendo un messaggio che leggerà in chiesa oggi ancora un vertice in prefettura forse l'ultimo per i dettagli sull'organizzazione e per garantire sicurezza e ordine pubblico con l'eventuale presenza di alte cariche dello stato non ancora confermate in chiesa entreranno solo le persone munite di invito e di accredito un migliaio circa gli altri seguiranno la cerimonia rimanendo all'esterno dove sono già stati posizionati in queste ore due maxi schermi anche la gigantografia di giulia attualmente visibile sulla facciata del municipio di vigonovo con la scritta ti vogliamo bene verrà trasferita a santa giustina il feretro partirà dall'obitorio di padova e dopo il funerale verrà trasferito a saonara dove si svolgerà nel primissimo pomeriggio una cerimonia di saluto più raccolta dedicata alla famiglia e ai cittadini di vigonovo dove vivono i cecchettin e di saonara dove giulia è cresciuta nella comunità parrocchiale intanto domenica c'è stato il primo incontro tra filippo cureta e suoi genitori il giovane detenuto nel carcere di montorio veronese con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata aveva chiesto fin da subito di poter incontrare il papà e la mamma un incontro durato circa un'ora tra commozione e abbracci questo l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda filippo turetta il femminicidio di giulia cecchettin domani i funerali e l'incontro tra il ragazzo e i genitori nel carcere di verona ancora alcune notizie di cronaca poi darò la parola ad antonella arlotti per le anticipazioni e per lanciare anche subito il primo argomento allora un grave incidente questa mattina a moimacco andiamo a vedere sul nostro sito ha provocato il ferimento di due persone eccole qui le due auto coinvolte con danni evidenti dall'impatto frontolaterale che si è verificato sulla strada statale vediamo anche altre immagini quelle qui che scorrono le immagini delle due auto incidentate che come abbiamo detto in questo incidente hanno due persone sono rimaste ferite entrambe ricoverate in ospedale ad Udine una in elisoccorso l'altra in ambulanza ma entrambe in codice giallo ancora per quanto riguarda la cronaca ma un altro argomento un incidente sul lavoro a Fontana Fredda dove una giovane è rimasto ferito cadendo da tre metri di altezza per cause in corso di accertamento è caduto da questa altezza mentre stava lavorando in uno spazio produttivo un'azienda nel territorio di Fontana Fredda anche su questo argomento vi daremo maggiori informazioni sia nel corso di ore 12 che nei nostri notiziari di giornata allora previsione del tempo poi rientriamo direttamente con Antonella che anticipa i suoi argomenti e tiene la parola per lanciare l'oroscopo della settimana vero Antonella? Esatto Andiamo a vedere intanto un meteo Amici di TV 12 ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo ci attendo lunedì con tempo a tratti instabile sul Friuli Venezia Giulia per il sopraggiungere di una nuova perturbazione che porterà qualche fiocco di neve anche sino quote medio basse vediamo ora nel dettaglio Pordenone Udine condizioni di marcata variabilità giornata infatti di alternanza tra sole e nubi con qualche fenomeno e come dicevo un po' di neve bagnata sulle pianure temperature in calo sia nei valori minimi che nei valori massimi minime anche sotto zero massime che si aggireranno intorno ai 5 gradi nel dettaglio ora Gorizia e Trieste ampi spazi soleggiati ma nella seconda parte del giorno qualche debole fiocco di neve temperature in calo con massime comprese tra i 5 e gli 8 gradi dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo il meteo è stato offerto da prima cassa servizi bancari e assicurativi sì e quindi come anticipato la giornata di oggi prevede come sempre l'appuntamento con l'oroscopo andremo a vedere le previsioni segno per segno con Samantha Visentin avremo in collegamento Antonella Pacco Ridge vice presidente Federmoda Friuli Venezia Giulia che ci parlerà delle tendenze moda uomo quindi tutto quello che riguarda questo universo maschile anche qualche idea su che regalo fare a un uomo un amico un marito un fidanzato quindi davvero interessante avremo poi Samantha Visentin con le sue pillole digital e come sempre la ricetta oggi vi proporremo il ristorante alla tabernetta andiamo a vedere che cosa ci prepareranno ciao sono Roberto siamo all'osteria tabernetta di Udine questo locale accogliente una bellissima location molto friulano siamo in piazza Duomo in questa vietta nascosta ma ci troverete sicuramente siamo vent'anni che siamo in questo locale e ci proponiamo sempre con il prodotto del territorio con la tradizione che ci piace molto essere con quel friuli con queste tradizioni molto belle qui abbiamo oggi abbiamo una vi presentiamo un dolce interessantissimo che si chiama il guba gnocco il guba gnocco e la gubana fatta da noi fatto un gnocco quindi particolare poi lo scoprirete quando Eddie Riotto vi presenterà il piatto congelato preparato da noi alla ricotta fumicata un miele fermentato insomma una cosa meravigliosa piacevolissima vi aspetto veniteci a trovare perché qui troverete tutte le tradizioni tutto l'amore e tutta l'accoglienza friulana in attesa di vedere questo interessantissimo guba gnocco andiamo a vedere invece quali sono le previsioni della settimana segno per segno con fabiana simonuti buongiorno antonella e buongiorno anche a tutti gli spettatori di tv 12 vediamo che cosa ci aspetta questa settimana questa settimana per la riete sarà una settimana un po particolare perché dovrà risolvere una questione familiare è come se c'è una lotta fra due parti e nessuno cede quindi sarà difficile saltarne fuori per stare sereno gli possiamo consigliare solo di cercare di trovare un compromesso però non ci sarà la soluzione definitiva per quanto riguarda il toro il toro avrà una grandissima occasione di lavoro gli saranno fatte più proposte per poter guadagnare qualcosa in più in questi periodi sotto feste quindi valuterà la strada giusta per poter combinare tutti i tempi insieme comunque per qualcosa accetterà non tutto ma accetterà per quanto riguarda il nostro gemelli per loro la situazione sarà molto mentale si troverà a dover sistemare molte cose legate alla burocrazia quindi tutto quello che può avere a che fare con contratti passaggi molte rimborsi come può prendere e dare comunque tutto quello che riguarda la burocrazia con calma e pazienza alcune le risolve abbastanza velocemente altre c'è bisogno un po di rivedere certe cose per il nostro cancro il nostro cancro questa settimana si è accorto di aver avuto dei miglioramenti fisici che aveva già in progetto era più di una cosa che voleva cambiare è qualcosa già fatto è già a metà strada no quindi questa settimana cercherà di cambiare ancora di più finendo tutto il suo progetto è molto contento per di quello che ha fatto e che sta continuando a fare questa cosa andrà in porto totalmente in tutte le cose che voleva fare per quanto riguarda il nostro leone il leone avrà bisogno di un po di riposare perché ha affrontato un po di sfide nelle ultime settimane quindi può prendere tempo per se stesso e il leone come sappiamo per lui riposo può essere anche muoversi quindi può essere anche uno sport una passeggiata in montagna qualcosa che lo rilassa non è detto che si riposa specialmente leone non è detto che si riposi in un divano la vergine la vergine pieno di iniziativa tanti progetti uscite con gli amici compagnie quindi avrà un fine settimana abbastanza piacevoli avrà anche tante occasioni di conoscere appunto gente nuova e siccome questo è un mese in particolare diciamo anche questa settimana comunque conoscerà parecchie persone dopo sceglierà lui non un po cosa tenere e cosa scartare tutte le persone che conosceranno un po tenerle sicuro vicino perché saranno tante la bilancia la bilancia sta decidendo di organizzare dicembre non è ancora sicuro tutto quello che vuole fare quindi in settimana farà dei piccoli ritocchi il bello è che appena finire di fare questi ritocchi cara bilancia ti arrivano gli nuovi inviti quindi dal fine settimana mi sa che dobbiamo ancora fare un po di viaggi prima di finire tutto il progetto se avevi già progettato le cose aiuto novità vediamo il nostro scorpione lo scorpo lo scorpione dovrà sopportare molto a livello familiare ci sono state delle discordie ma non lui direttamente tra le persone e quindi è stato un po arbitro e non è riuscito a mettere a posto le cose praticamente si troverà in mezzo ai famosi due fuochi non la risolverà tutta questa settimana la situazione la trascinerà per un bel po però diciamo che è meglio rimanere neutri in questo caso non perdete la parte né di destra né di sinistra continuate a fare l'arbitro e non prendete posizioni un consiglio è meglio così per il nostro sagittario il nostro sagittario si sentirà molto deluso dopo aver dato tanto perché non riesce a capire perché alla fine se la prendono anche con lui gli danno tutte le colpe dopo tutto quello che fa quindi è una settimana dove si sente un po imbronciato dovrà fare i conti con della rabbia un po repressa in amore invece nuove emozioni in amore va bene se non parliamo di lavoro e di guerriglie varie l'amore per questa settimana va bene avrà anche tantissime nuove emozioni vediamo il nostro capricorno il capricorno si dovrà prendere un po l'iniziativa di prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda sia la famiglia che la coppia gli verranno dette delle cose che non riesce a essere molto d'accordo può essere che la famiglia si divida un po nel natale o magari una festa o degli avvenimenti che dividono un po no quindi non è molto d'accordo vediamo se riesce a a mettere un po d'accordo i piani a riuscire almeno a portare a termine uno dei suoi progetti che magari era una cena con amici una riunione fra parenti con figli con qualcosa che ci teneva tanto a riunire e glielo auguro forse ci riuscirà forse l'acquario vediamo l'acquario non avrà tempo per sé pieno di impegni lavoro famiglia non gli dispiace avere questi impegni si sente proprio coinvolto si sente preso si sente amato dando quindi si dà con più che può lo fa molto volentieri però questo fine settimana avrà comunque il tempo di divertirsi quindi questa settimana sarà piena per tutto e tutti e chiunque però al fine settimana lo vedo felice lo vedo solare i nostri pesci i pesci innamorati avranno dei ricordi i pesci questa settimana stanno un po di confusi e non hanno una settimana lineare avranno questa settimana con questi alti e bassi che vanno da dalla felicità alla tristezza si sentiranno tipo in una ruota che gira devono prendere un po quello che c'è no perché hanno questa mescolanza questa settimana con i ricordi il passato il presente cosa voglio nel futuro no queste cose qui fanno questo turbine di emozioni che ti portano a poter cambiare anche l'umore anche durante la giornata quindi un po di pazienza e prendi la giornata giusta e prendi la giornata sbagliata però lo vedo innamorato felice quindi nell'amore tranquillo questa cosa può dare solo che supporto e basta fine niente finito qua quindi vi saluto per questa settimana è tutto mi raccomando organizzati un po per le feste perché ho visto che alcuni sono si organizzeranno bene alcuni sono un po organizzati confusi quindi mi raccomando da parte il segno che avevo detto prima che avrai di nuovi inviti quindi dovrà ritoccare di nuovo tutto e ci vediamo la prossima settimana e ringraziamo fabiana simonuti per le previsioni segno per segno di questa settimana ora andiamo qualche secondo in pubblicità ci rivediamo tra pochissimo bentornati in studio e ora è il momento di andare a vedere questa ricetta che ci ha particolarmente incuriosito il guba gnocco del ristorante alla tavernetta vediamo buongiorno sono edi riotto e come vi accennava roberto andremo a presentare un nostro dessert che è il guba gnocco e che è una rivisitazione della della seada sarda perché il mio collega è sardo quindi un giorno è riuscito con questo piatto e l'abbiamo fatto in chiave triulana modificando un po di cose e quindi partiamo con una pasta di crostoli la classica pasta che si fanno i crostoli a carnevale l'andiamo a riempire con un impasto di frutta secca mista che c'è della composta di mele dell'uvetta del limone candito della prugna secca il fico secco mandorle nocciole un po di tutto e andiamo a fare andiamo a tritare o a frullare e creiamo una pastella un ripieno così abbastanza sostenuto ricorda un po il ripieno della della gubana ricorda ok sac a poche diamo sac a poche ok pennelliamo con un po di acqua o latte sicuramente ma è abbastanza insignificante qualcosa che crei un collante poi il ripieno abbastanza generoso si deve sentire tutti i ripieni anche per i ravioli è meglio farli ben saporiti gustosi che ci siano quantità ok andiamo a fare un procedimento come fare un normale raviolo salato ok tagliamo filiamo con una rotella ok a questo punto e andiamo a friggere la seadas è una specie di raviolo e ripieno di pecorino e viene servito con del miele e logicamente noi l'abbiamo fatto un po un po diverso e poi vi spiegherò cosa andremo a mettere al posto degli ingredienti che mettono i sardi e quindi andiamo a friggere olio bollente e quindi andiamo a montare il piatto abbiamo fatto al posto del miele che mettono i sardi abbiamo fatto l'idromele l'idromele è un è la prima bevanda alcolica della storia prima della birra prima del vino e praticamente viene diventato che miele acqua un po di sale e viene fatto fermentare parte una fermentazione alcolica normalmente come partirebbe per un vino e ci serve circa un mese per farlo poi dipende dalla temperatura eccetera fermenta dopo la fermentazione alcolica c'è la fermentazione acetica e praticamente prende questo mousse dolce acido questa qui è ancora in fase di fermentazione di fatto si vede che sta schiumetta così noi l'abbiamo l'abbiamo già di pronta ovviamente e l'abbiamo fatta bollire per pastorizzarla e leggermente addensata poi il polline e un gelato che facciamo noi ovviamente e che una base fior di latte con la ricotta di capra fumicata quindi abbiamo sostituito il pecorino che usano i sardi con un gelato alla ricotta ok quindi impiattiamo mettiamo il nostro raviolo così l'idromele lo mettiamo c'è qui abbastanza generoso si deve sentire ok il gelato mettiamo mettiamo in mezzo ok e il polline molto semplice è un dolce che va mangiato con le mani e con un cucchiaio se non c'è il gelato alla ricotta affumicata ovviamente la ricetta è abbastanza semplice però ci vuole un gelatiero cosa potrelo fare e si può prendere in gelateria un gelato alla ricotta un fiore di latte o un altro gelato che può star bene con quindi la peculiarità che volevo dare a questo piatto era sostituire appunto il pecorino con qualcosa di nostro un saluto a tutti grazie per l'attenzione e alla prossima ricetta oppure alla tavernetta vivo cash and carry lo specialista regionale del food service da oltre 47 anni al servizio della propria clientela con un vasto sortimento di prodotti professionali alimentari e non freschi e freschissimi e premium brande vivo cash and carry da sempre la qualità al miglior prezzo viene a trovarci nei nostri punti vendita di Martignacco, Udine, Gorizia, Pordenone, Lignano e Montebelluna www.vivo-online.it eccoci qui di nuovo in diretta e allora torniamo in esterna e lo facciamo con Barbara Venuti per parlare del tema che abbiamo lanciato in apertura di trasmissione quello delle piste ciclabili in questo caso siamo in via nazionale per verificare questo percorso che ha un anno di vita Barbara e tu prima dicevi nel nulla cerchiamo di capire cosa significa nel nulla per quanto riguarda questo tracciato per il quale possono stare fatti anche degli investimenti evidentemente Barbara eh sì sì rieccoci qui mi sono spostata praticamente dalla parte opposta della rotonda in modo che magari si possa chi ci segue da casa possa localizzare e localizzarmi praticamente sono nella rotonda che da da un lato da una parte a cavalicco e dall'altra parte porta a feletto quindi sono in direzione a tricesimo Udine alle mie spalle c'è Udine è una ciclabile noi siamo qui praticamente da un paio d'ore su cui non è transitato nessuno non transitano neppure i pedoni quindi ci verrebbe quasi spontaneo dire che questi cordoli sono più che altro insidiosi e pericolosi tra l'altro è una ciclabile che ha una percorrenza di circa 250 metri perché inizia dove abbiamo fatto il collegamento prima a mezzogiorno per terminare poco dopo la rotonda tra l'altro termina nel nulla le segnaletiche che vi abbiamo mandato prima e che possono essere tranquillamente diciamo così capibili e non fraintendibili ci fanno intendere che la ciclabile viene interrotta in più punti perché ovviamente ci sono dei locali commerciali nei quali devono transitare entrare quindi uscire le auto e tra l'altro anche alle mie spalle quindi nella strada che conduce a feletto è proprio significativo e lampante quel segnale in cui abbiamo prima il pedonale poi abbiamo la segnaletica che dice divieto e per i pedoni e per le biciclette quindi parliamo di mobilità sostenibile di un'alternativa alle auto praticamente io scendo lascio la bicicletta e poi Francesco come procedo ecco cioè io se decido di usare un mezzo alternativo all'auto che cosa faccio mollo la bici o prendo l'auto oppure mi fermo lì perché la ciclabile non conduce assolutamente a nulla la stessa cosa accade dalla parte speculare perché la traiettoria e il tragitto sono assolutamente identici quindi stiamo parlando di ben 250 metri all'incirca come civico siamo al numero 50-60 di via nazionale per capirci all'altezza circa di corte smeralda fino alla rotonda la stessa cosa accade dalla parte opposta c'è paio il divieto e per i pedoni e per le due ruote quindi a questo punto io scendo dalla bicicletta oppure arrivo a piedi e non si sa dove debba andare quindi ancora oggi non ci sfugge nell'ultimo anno quello che sia stata l'utilità di questa ciclabile perché ripeto di biciclette che utilizzano questo tratto si contano nelle dita di una mano è un investimento e sono spese le spese che ci sono state non sono da poco il recupero paesaggistico sinceramente io non lo vedo anzi ripeto questi segnali creano molto caos creano del disordine e soprattutto questi cordoli non è che siano proprio sicurissimi quindi noi siamo assolutamente dalla parte di quella che potrebbe essere un'alternativa alle automobili ci mancherebbe pure però io continuo a ribadirlo francesco andiamo a migliorare i servizi già esistenti e che magari latitano in quelli che sono interventi di manutenzione ordinaria quindi non pretendiamo la straordinaria ma quella ordinaria dopodiché magari pensiamo a nuovi interventi sulla base di quelle che possono essere le esigenze del territorio perché leggo molto di quella che potrebbe essere un'appettibilità a livello turistico per quanto riguarda ovviamente i percorsi ciclopedonali però spesso abbiamo lamentato abbiamo denunciato noi per primi la carenza della segnaletica in più parti della città e non appena il meteo ce lo permette io e Carmine monteremo sui due ruote muniti di qualche telecamera telefonino e GoPro all'occorrenza in modo che ci si possa rendere conto realmente di quella che è la segnaletica e di quelli che sono i problemi se io dovessi montare su un due ruote per non parlare di quello che accade all'interno dello stesso centro dello stesso comune di Udine che in più punti è più pericoloso che altro perché nel momento in cui l'auto come ora si ritrova ad uscire alle tue spalle vedo che a terra c'è la segnaletica per i non vedenti che è in corrispondenza dell'attraversamento pedonale poi però se un non vedente attraversa la strada e arriva lì dove va a finire? si trova su un percorso ciclabile giusto? o è misto lì? mi fa piacere che tu te ne sia accorto sono contenta perché è esattamente la stessa osservazione che ho fatto io c'è ovviamente la segnaletica sulla pavimentazione per gli ipovedenti quindi che cosa accade? che io attraverso mi ritrovo al centro della careggiata attraverso nuovamente mi ritrovo dall'altra parte però ad un certo punto il marciapiede finisce e mi ritrovo in mezzo al nulla diversamente potrebbe essere utile se io devo raggiungere la fermata dell'autobus o della corriera alle mie spalle però ripeto c'è comunque un problema perché la persona ipovedente o non vedente nel momento in cui io percorro questi 30-40 metri oltre al fatto che c'è una segnaletica per cui al pedone è interdetto il passaggio io poi non vado da nessuna parte quindi è tutto molto bello, è tutto molto inclusivo ma deve essere anche utile perché tutto questo è costato del denaro e non poco dicevo al pedone è interdetto il passaggio però c'è una segnaletica per ipovedenti che non vanno certo in bici, vanno a piedi e oltretutto c'è poi quella aiuola, quello sparti non so che cosa perché dall'altra parte cosa c'è? c'è un parcheggio, c'è l'accesso a qualche attività commerciale quindi uno dovrebbe scavalcare, passare sull'erba lì che è alla tua destra per andare dall'altra parte, sembra una cosa abbastanza caotica detto questo, che tu ci hai già spiegato molto bene voglio farti un'altra domanda secca tu sei lì ormai da un'oretta abbondante è passato qualcuno in bici? no, come dicevo prima, io e Carmine siamo qui da quasi due ore e non è passato assolutamente nessuno siamo gli unici che hanno anche attraversato la strada e ripeto, tranne in casi di necessità in cui vedo di fronte a me delle persone che stanno raggiungendo la fermata dell'autobus ma è una fermata che c'era a prescindere non è certo questa careggiata che è stata ricavata dalla strada ovviamente ad aver migliorato la situazione anzi, noi più volte anche all'interno della stessa Udine abbiamo segnalato dei passaggi pedonali che poi terminano con un cordolo o che iniziano con un cordolo e qua mi sfugge Francesco, mi sfugge cosa sia passato in mente quel giorno a chi ha fatto la segnaletica stradale perché poi magari ce lo dovranno anche spiegare quindi detto questo, questa è l'ennesima ciclabile inclusiva per la mobilità alternativa e sostenibile della durata e della lunghezza di 250 metri quindi praticamente da via nazionale 59 per 250 metri arrivate alla rotonda, la ciclo pedonale finisce quindi noi molliamo la bicicletta e restiamo lì bene, grazie Barbara, cioè non bene grazie Barbara, bene il collegamento che ha spiegato tutto ma non l'argomento che abbiamo trattato qualcuno si venisse a spiegare la stranezza di questa situazione che non è purtroppo l'unica abbiamo già documentate altre sia per quanto riguarda proprio la percorribilità la promiscuità di bici pedoni che non si capisce bene in che modo possano in certi casi coesistere queste ciclabili che spuntano su strade a doppio senso con la ciclabile che invece ha un senso unico o viceversa quindi situazioni davvero che poi mettono anche in pericolo gli utenti grazie Barbara e siamo sicuri che però su questo argomento torneremo ad essere presenti perché ce ne sono tante di queste situazioni e ci arrivano anche tante segnalazioni grazie a voi noi continuiamo ad essere quel piccolo grande faro sulla città ed intorni se qualcuno volesse smentire o aggiungere noi siamo sempre a disposizione quindi a presto, grazie grazie a Barbara Venuti adesso andiamo a vedere un attimo dal sito internet una notizia dell'ultima ora che poi abbiamo pubblicato sul nostro sito un furto per un bottino di oltre 20.000 euro è stato denunciato in casa del sindaco di Flaibano che ha subito questo furto malviventi che hanno forzato una finestra si sono intrufolati nell'abitazione del sindaco di Flaibano Alessandro Pandolfo hanno rubato orologi gioielli per un valore di oltre 20.000 euro sul posto sono intervenuti subito i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto tramite le immagini delle videocamere della zona questo il titolo furto nell'abitazione del sindaco di Flaibano rubati oltre 20.000 euro tra orologi e gioielli e allora io adesso restituisco subito la parola ad Antonella Arlotti perché andiamo avanti con gli argomenti leggeri di giornata e si parla di moda Antonella a te Sì, grazie Francesco e do il benvenuto in collegamento alla Style Coach Vice Presidente Federmoda Friuli Venezia Giulia Antonella Pacorige Buongiorno Antonella Grazie, grazie Buongiorno, buongiorno a voi eccomi qua oggi in collegamento da Gorizia direttamente da Gorizia da un bellissimo negozio perché lo ricordiamo che Antonella Pacorige è anche imprenditrice oltre che Style Coach Vice Presidente Federmoda Friuli Venezia Giulia e oggi nello specifico tratteremo del tema maschile per quanto riguarda le tendenze ormai non autunno-inverno ma inverno e dando anche qualche suggerimento per fare qualche regalo è corretto? Assolutamente è assolutamente di fatti ti ricordi che ci siamo lasciati un po' l'altra volta abbiamo parlato di tendenze donne abbiamo parlato di colori e questa volta ci concentriamo sull'uomo perché no insomma anche questo uomo che irà poi in questo periodo che si avvicina proprio il periodo delle festività natalize eccetera anche per dare degli spunti con delle cose che magari potrebbero andare a intervenire nel guardarobo dell'uomo con un twist diverso perché come ho mandato a te appunto dalla regia adesso vediamo se vanno le... eccoci iniziamo con questa non so se Antonella vedi ma conservativo sì perché l'uomo tende a essere conservativo quindi un uomo che tende a conservare sappiamo che gli uomini anche per quanto riguarda le tendenze e la moda amano una volta che adottano uno cesto stile tendono a continuare a farlo però un uomo un po' diverso un uomo non conservatore quindi un uomo nuovo un uomo che tende sì a essere conservativo però non vuole essere conservatore significa mantenere inalterato le cose nel tempo invece no quindi qualcosa di diverso quindi vedremo che ci sono dei capi che il mondo della moda ha fatto dove abbiamo cominciamo a vedere i colori che l'uomo introduce quest'anno nel proprio guardaroba vediamo che ci sono dei colori che sono un po' diversi quindi vediamo adesso se cominciamo con la carellata dei colori chiudiamo la regia appunto vediamo eccoci qua crazy for purple cominciamo a vedere un colore diverso anche per quanto riguarda le tendenze uomo quindi questo viola ti ricordi Antonella che mi ha parlato tanto dei colori anche introdotti nel mondo della donna quindi abbiamo qua delle tendenze quindi già azzardare con un poizzico di viola perché vediamo può essere molto bello comunque come colore abbinato sia al nero che al grigio che al blu anche con un vezzo che ne so una sciarpa qui ad esempio lo vediamo anche in del total look però diciamo per l'uomo nella quotidianità una sciarpa un calzino o semplicemente una cravatta diventa subito qualcosa di nuovo poi oltre al viola che ci sono altri colori il bordeaux un bordeaux grande classico sempre per la moda maschile ma questa volta anche si sposa benissimo con tutti i colori dell'inverno quindi le nuancere che più o meno troviamo all'interno del guardaroba maschile quindi il bordeaux che potrebbe essere un'alternativa a rosso per la donna anche nel periodo di Natale il bordeaux si sposa molto bene anche per quanto riguarda i tessuti che ne so le lani i cashmere diventano subito ricchi con questa tinta poi altro colore importante per la collezione è l'azzurro qui lo chiamano l'azzurro da banchiere perché questo azzurro è sempre stato considerato un po' anche per il mondo per il mondo appunto degli uffici quindi la camicia e cosa però qui lo vediamo è interpretato con dei look dove abbiamo l'azzurro anche qui declinato benissimo sempre ai colori quindi sono già tre proposte di colore quindi abbiamo visto il viola il bordeaux e l'azzurro da andare a introdurre all'interno del guardaroba cosa ne pensi Antonella di questi colori? l'uomo colorato mi piace è vero? è vero sicuramente ah ecco poi oltre all'azzurro vediamo che ci sono degli altri colori e vediamo c'è tantissimo bianco e nero bianco e nero che tendenzialmente abbiamo visto che lo sposiamo più per la donna ma come? ha messo con dei tessuti che sono tipici appunto del mondo masquile quindi vediamo un principe di galles un gessato un pedipool quindi qualcosa che lo ravvivi visto che la guardaroba dell'uomo tendenzialmente le linee sono quasi sempre abbastanza classiche qui vediamo ad esempio delle nuance di grigi abbinate insieme come abbiamo fatto per la donna questo total look nelle nuance dello stesso colore dei grigi come dicevamo l'altra volta che i grigi assieme sono molto belli e mescolati anche per l'uomo questo aggiungere dei capi c'è un termine proprio che gli stilisti usano che è il layering diversi strati dello stesso colore nelle diverse nuance qui vediamo anche dei capi che sono tra l'altro vediamo un dolce vita il dolce vita quindi la maglia col collo alto è diventata un grandissimo una grandissima alternativa per l'uomo che non vuole usare la cravatta durante il periodo invernale quindi ad esempio per quanto riguarda anche negli uffici a cosa la giacca la maglia col collo alto viene messa sopra la giacca quindi diventa una cosa un'alternativa alla cravatta stiamo parlando magari un look un po' più casual non magari per un look da cioè che ne so da sera esatto sempre durante il giorno naturalmente ecco poi abbiamo quindi te lo dico proprio che è una tendenza che è nata ed è una cosa che si sta vendendo tantissimo anche quello ci sono degli uomini che non sposano subito la voglia di mettere una maglia dolce vita perché magari la pensano è un troppo sportivo così però anche la dolce vita con la giacca la trovo che sia un abbinamento molto raffinato quindi anche questo potrebbe essere introdurre qualcosa di nuovo nel guardaroba degli uomini un'idea regalo ad esempio per chi non è abituato appunto che usa la camicia quindi un'idea regalo oppure ti ricordi la semplice la semplice t-shirt tantonella che di solito gli uomini mettono la t-shirt però è più attuale visto che parliamo di tendenze il dolce vita quindi un regalo da fare un dolce vita potrebbe essere un'idea poi vediamo un'idea esatto poi vediamo continuiamo sempre con i colori che abbiamo per quanto riguarda sempre il mondo dell'uomo e qui cominciamo a vedere le tonalità del marrone le tonalità della terra anche qui gli uomini preferiscono le tonalità fredde le tonalità calde a meno che non abbiano anche loro un look un po' più casual sempre per un look un po' così però sono molto belle queste tonalità ad esempio si abbinano bene ai tessuti tipicamente invernali che sono i velluti quindi che ne so oppure i giacconi i giubbini di pelle oppure delle cose quindi andiamo anche qui quando parliamo di tendenze vediamo che se adesso facciamo un giro appunto all'interno dei nostri negozi della città in cerca di qualche regalo o qualcosa troveremo molto marrone ok quindi altra cosa da prendere in considerazione anche qui vogliamo aggiungere una novità aggiungiamo un colore certe volte magari invece di aggiungerlo in una forma diversa basta solo introdurre dei colori all'interno del guardaroba poi altra cosa che lo vediamo sempre in tutti gli inverni ma questo c'è tanto il tartan il tartan che cos'è? è lo scozzese quindi vediamo scozzese lo vediamo in diversi look qua sia per il tempo libero ad esempio una bella camicia scozzese con un giubbino senza maniche potrebbe essere una bella alternativa con un dolce vita sotto per un look da montagna magari se qualcuno adesso durante le vacanze natalizie va in montagna oppure anche per i pantaloni qui vediamo con delle fogge diverse perché sappiamo che gli stilisti amano sempre provocare qui vediamo ad esempio un pantalone molto largo portato così grande tendenza però già introducendo dei pantaloni scozzese all'interno del guardaroba da uomo diamo quel tocco diverso magari con una giacca e a quel punto la giacca e la dolce vita diventano tintunita ed è il pantalone che fa il vezzo diverso quindi ce n'è davvero per tutti i gusti avevi ancora qualche altra immagine non mi ricordo sì ci sono ancora delle altre immagini che avevo mandato alla regia ecco perché volevo parlare di questo altra cosa quindi quando parliamo sempre rifacendo ci alla prima slide che diceva conservativi sì ma conservatore no quindi abbiamo sì delle capi che sono il senza tempo come abbiamo visto per la donna dei capi senza tempo ti ricordo il cardigan novità il cardigan va a sostituire la giacca per chi magari è a casa con lo smart working o per chi all'interno della propria attività ha voglia di sostituire la giacca quindi diventa lo possiamo mettere con la camicia possiamo metterlo con la polo qui sono dei cardigan che sono estremamente over quando parliamo di tendenza dall'altra parte proprio un cardigan che diventa una giacca molto confortevole perché non dimentichiamo che il cardigan è comunque fatto di lana quindi diventa una cosa morbida avvolgente per queste giornate prime giornate freddi invernali ma al contempo diventa al contempo facile da usare anche qui cardigan diventa altra cosa che quest'anno la maggior parte dei direttori creativi hanno proposto in tutti i brand quindi anche qui magari l'abbiamo già visto magari alcuni uomini un po' più agedico possono averlo già usato però magari potrebbe essere una novità da introdurre all'interno del guardaroba perché messo in maniera diversa perché poi sappiamo benissimo che dei capi classici una volta che tu li attualizzi con qualcosa di contemporaneo acquistano subito un sapore completamente diverso vero Antonella? assolutamente quindi un suggerimento se non volete acquistare un cardigan andate a rispolverare quello delle stagioni precedenti che sicuramente avete e avevate magari abbandonato perché è tornato di gran moda corretto? di grande tendenza sì assolutamente oltretutto Antonella come dici giustamente tu ci sono dei capi che magari riposano lì all'interno del guardaroba e poi basta attualizzarli che ne so con una camicia scozzese per un look o con una polo insomma abbiamo visto tante alternative è bello anche l'idea di poter mescolare i capi che abbiamo già o dare come dici tu una seconda vita infatti esatto quindi ma stavi dicendo scusa mi ti ho interrotta sì ma ma c'è ancora qualcosa c'è ancora qualcosa vediamo la regia che cosa il blazer il blazer doppio petto guarda che il blazer doppio petto potrebbe essere grandissimo qui lo vediamo poi sviluppato in diverse cose quindi con dei look particolarmente un po' più eleganti ma non solo e poi volevo fare qualche slide qualche figura che fosse un po' un po' più quasi un po' a provocare però vediamo abbiamo visto ti ricordi non lo so quando ci sono queste trasmissioni dello spettacolo cosa basta vedere Sanremo cosa dove gli uomini hanno cominciato a usare anche i blazer o le cose per la sera con qualcosa di glitterato cosa che una volta era riservato solo al genere al genere prettamente maschile quindi vediamo anche quando anche i ragazzi giovani cercano qualcosa che esca un po' dalla banalità quindi qualche non stupiamoci se vediamo all'interno dei negozi anche maschili dei capi magari classici però con quel twist un po' attuale quindi diciamo potrebbe esserci qualche vezzo qualcosa che li rende un po' più per dare un po' di luce anche a questi uomini sono d'accordo sono d'accordo quindi perfetti anche proprio per le feste per il periodo a cui stiamo andando incontro allora noi ci rivediamo lunedì prossimo invece con i tuoi suggerimenti per le tendenze per quello che riguarda appunto come scintillare durante le feste ci racconterai anche del nuovo colore pantone corretto che verrà sì assolutamente che verrà come viene lanciato l'otto dicembre sì subito l'otto questo weekend qui perché è iniziato il countdown proprio già sui social su tutti anche sul sito ufficiale di pantone perché ogni anno durante questo primo diciamo weekend di dicembre verrà decretato il colore tendenza quello che diciamo sposeremo sposerà il mondo della moda per il 2024 quindi stiamo tutti attendendo anticiperemo quale sarà il colore e poi vi farò un sacco di suggerimenti per brillare durante il mondo durante appunto il periodo delle festività fantastico sei sempre una cucina di idee ci dai sempre tantissimi consigli quindi anche per l'uomo ricordatevi volete fare un regalo volete per il vostro o farvi un regalo quest'anno le tendenze di moda sono quelle che vi ha indicato Antonella Pacco grazie Antonella per esserci collegata con noi ci rivediamo lunedì prossimo buona giornata buona giornata grazie ciao ciao e noi andiamo in pubblicità e ci rivediamo tra poco eccoci qui di nuovo in diretta pronti per ripartire tra un po' ci collegheremo con Angela Caino da Paluzza dove è pronta per intervistare il vice sindaco facente funzioni di Paluzza per parlare della frana che è caduta ieri a passo Monte Croce Carnico sabato è caduta la frana a passo Monte Croce Carnico con l'interruzione della della strada che porta in Austria e poi in un secondo collegamento sempre con Angela Caino ci occuperemo di capire quello che si poteva fare per evitare non la frana perché la frana è un evento naturale che purtroppo per le caratteristiche delle montagne è un qualcosa che può capitare ma per evitare di creare delle problematiche così impattanti sui paesi come l'interruzione di una viabilità e cioè c'era un tunnel previsto sotto la montagna che poi non è stato più fatto di questo ci occuperemo poi in un secondo collegamento adesso voglio farvi un repilogo di cronaca prima di collegarci con Angela a Caino da Paluzza mentre vedete alle mie spalle ancora le immagini ed è spaventosa quella che è appena passata dietro di me con tutto il fronte della montagna che ha ceduto e che è finito sulla strada provocando come vedete queste crepe in alcune parti l'asfalto è saltato completamente sotto il peso dei massi che sono scivolati a valle vedete la strada interrotta resterà interrotta per molti giorni questo ci è stato detto subito nelle prime ore dopo il fatto come potete vedere una situazione davvero difficile anche da ripristinare per quanto riguarda la messa in sicurezza poi serviranno lavori per mettere a posto la strada e bisognerà anche accertarsi che non ci siano altri pericoli da quella montagna per la strada per chi passa da lì nel momento in cui dovesse essere riaperto anche il traffico qualcosa che dovrà essere assolutamente fatto perché altrimenti si rischia di paralizzare l'economia la sicurezza va messa in cima a tutto vanno trovate delle alternative nel frattempo però bisogna mettere in sicurezza e ripristinare questa strada che collega con l'Austria con tutte le conseguenze negative che ci possono essere dall'interruzione così drastica di un collegamento tra la nostra regione e la vicina austria quella qua vedete il fronte della montagna che ha ceduto ed è finito in strada vi faccio un epilogo di cronaca poi siamo pronti con Angela Caino allora andiamo sul sito di tv12 udinese tv per ripartire dalla notizia del primo piano dove abbiamo pubblicato di un grave incidente questa mattina a Moimacco con due feliti uno li trasportato l'altro trasportato in ospedale in ambulanza entrambi in codice giallo venuto sulla strada statale un impatto frontolaterale con due persone dunque che sono rimaste ferite poi ancora un incidente infortunio sul lavoro che si è verificato invece a Fontana Fredda dove un giovane è rimasto ferito mentre stava lavorando ed è caduto da un'altezza di 3 metri anche per lui ricovero in ospedale sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine ed infine un furto nell'abitazione del sindaco di Flaibano dove sono stati rubati oltre 20.000 euro chiudiamo però anche con qualcosa di bello di leggero perché ieri è stato inaugurato l'icepark di Udine qui vediamo le foto icepark che è stato installato aperto in piazza primo maggio nella presenza del sindaco dell'assessore Benanzi e poi andiamo a vedere in basso c'è anche un bel video di questa inaugurazione che ci fa vedere come la gente poi sia a corsa in massa e abbia iniziato a frequentare l'icepark che avevamo visto già in fase di installazione quando siamo stati in piazza per la staffetta Teleton è stato un po' difficile far coesistere tutto i preparativi per l'icepark e gli spazi che erano stati destinati alla staffetta Teleton che apro e chiudo parentesi è stata un vero e proprio successo di partecipazione e di raccolta fondi che verranno destinati alla ricerca attraverso Teleton ma adesso siamo pronti con Angela Caino andiamo in montagna a Paluzza per parlare della frana a te la parola Angela buongiorno buongiorno a te al tuo ospite Sì eccoci Francesco siamo con Luca Scrignaro vice sindaco protempore del comune di Paluzza gli chiediamo subito un aggiornamento della situazione della frana agli ultimi sopralluoghi e dei tecnici dell'ANAS cosa ci dicono? Ma questa mattina hanno cominciato i lavori ai fini tecnici per avvicinarsi un po' al luogo della frana per capire meglio l'entità dei danni e quindi poter cominciare ad immaginare il proseguo insomma qualche azione anche se anche per il meteo sarà difficile prospettare delle soluzioni nei prossimi giorni insomma ci vorrà un po' di tempo comunque si parla di 50.000 metri cubi di materiale franato ma sì questa è una prima stima rispetto ai rilievi fatti con i droni però appunto fatti ieri con la nevicata già avvenuta e per cui insomma è proprio una stima è così una misura di massima il tema sarà considerare anche e misurare anche quello che è ancora a rischio perché quello che ormai è crollato diciamo così è sicuro in qualche modo il tema vero è capire cosa c'è ancora a rischio e cos'è che ancora deve eventualmente può eventualmente crollare adesso i tempi diciamo così di marcia degli interventi il cronoprogramma cosa prevede? è prematuro secondo me esprimersi ad oggi anche perché appunto nel sito non si è ancora arrivati e in settimana contiamo di riuscire ad incontrarci con la regione siamo in contatto con l'assessore amirante siamo in contatto con i dirigenti di ANAS contiamo in settimana di riuscire ad incontrarci per cominciare ad ipotizzare le soluzioni ma che appunto rimarranno ipotesi io non vorrei essere eccessivamente prudente ma considerando che siamo a dicembre e che siamo a oltre mille metri anche arrivare a primavera per avere delle certezze ci vorrà quindi sicuramente del tempo questa situazione ha riaperto un po' il dibattito sulle strade alternative alla statale 52 bis Carnica per raggiungere l'Austria e oltrepassare il confine da queste montagne si è parlato tanto nei decenni passati del tunnel c'è anche un'altra ipotesi di un'altra strada che si può realizzare sempre in loco come stanno le cose ma allora è chiaro che è arrivato il momento di affrontare sul serio il tema diciamo che comunque è una viabilità e questo vorrei che lo considerassimo tutti quando facciamo le dichiarazioni ad ogni livello anche per evitare di creare aspettative eccessive o comunque anche irragionevoli in qualche caso consideriamo che è una viabilità e una modifica un tunnel piuttosto che una variante all'attuale strada significa come dire portare delle ricadute che hanno degli interessi che vanno ben oltre il locale per cui il tema della variante piuttosto che del tunnel sono due temi su cui sicuramente affronteremo su cui discuteremo nelle prossime settimane bisognerà capire nell'interesse mi verrebbe da dire europeo qual è la soluzione migliore posto che questo evento ci ha rappresentato il fatto che questa viabilità non è sicura e non può rimanere così com'è ecco c'è chi dice perché non si è fatto nulla fino adesso anche magari con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza qualcosa si poteva fare? eh ma il tema è proprio questo che se lo consideriamo nel comune di Paluzza possiamo dire che sì si poteva fare se la consideriamo questa viabilità nella complessità della rete infrastrutturale europea è evidente che ci sono degli interessi delle considerazioni che vengono fatte a un livello necessariamente più alto e che hanno portato a non essere intervenuti fino ad oggi se se ne parla da 60 anni e 60 anni non si è arrivati per interessi nazionali e non locali ad un risultato evidentemente le cose sono state così fino ad oggi oggi è il momento di mettere in sicurezza chi ci passa per cui oggi il tema è anche e soprattutto quello della sicurezza Quanto incide questa chiusura per la popolazione di questa zona del Timao Paluzza? Ma ci sono delle relazioni prima di tutto che saranno messe a repentaglio dalla chiusura c'è una ricaduta sicuramente economica penso al settore della ristorazione in primis se pensiamo che venerdì sera stesso c'erano striaci presenti nei ristoranti nelle pizzerie della vallata tutto il settore turistico soprattutto d'estate che giova del passaggio sulla statale penso anche al mercato ad esempio del legno e della forestazione che ha su questa viabilità un flusso importante legato a quel settore a quell'attività per cui sicuramente le ricadute sono importanti e questo è uno dei temi sui quali chiederemo anche degli interventi se possibile compensativi rispetto ai danni che potremo avere il sindaco ha ricordato appunto anche gli effetti sulle attività economiche del posto prima Francesco noi abbiamo raccolto alcune voci allora magari nel prossimo collegamento in diretta sempre da Tima andremo a sentire anche queste voci nel frattempo ringrazio il sindaco e restituisco la linea allo studio grazie a voi buona giornata grazie grazie Angela abbiamo visto dunque una situazione davvero difficile con il sindaco il sindaco che in questo momento è un sindaco un vice sindaco che fa le funzioni del primo cittadino e abbiamo visto una situazione davvero complicata perché perché c'è l'interruzione del collegamento con l'Austria c'è un problema dunque anche di rapporti e di relazioni come ha detto il vice sindaco ad Angela Accaino oltre che un problema di economia ma è chiaro che se le persone non si spostano si ferma anche l'economia e poi c'è il problema dell'economia di chi deve trasportare delle merci da una parte all'altra sia dall'Austria verso l'Italia che dall'Italia verso l'Austria una situazione davvero difficile dopo questa frana e noi ci occuperemo poi invece di che cosa non è stato fatto di cosa si potrebbe fare in futuro per rendere questi eventi meno impattanti poi sulla vita dei luoghi delle persone che vivono nei luoghi dove questi eventi si verificano io resto dalla linea ad Antonella Arlotti per la prossima ospite poi torno per collegami di nuovo con Angela Accaino ma avremo anche un intermezzo per parlare della festa di Santa Barbara che è la protettrice dei Vigili del Fuoco oggi grande festa nella caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine dove siamo stati con Luca Ursig per intervistare il comandante per vedere anche un po' all'interno della caserma come si svolge la vita dei nostri Vigili del Fuoco e farci raccontare anche qualcosa del bilancio di un anno di attività che è stata come sempre intensa perché i Vigili del Fuoco sono presenti davvero sempre sono sempre sul pezzo come i studi intervengono per qualsiasi tipo di necessità non solo come si potrebbe pensare dal nome per gli incendi ma per tanto tanto altro Antonella grazie Francesco è ora il momento di collegarci con Samantha Visentini Samantha eccola qua buongiorno no è frizzata vediamo se riesce a riprovare il collegamento con Samantha Visentini abbiamo iniziato le volte scorse a parlare di social di come presentarsi al meglio sui social abbiamo affrontato l'argomento Facebook e Instagram oggi volevamo parlare anche di un altro social che spesso non viene utilizzato al meglio che è LinkedIn Samantha Visentini si occupa di strategie di marketing è una digital human strategist e vediamo se riusciamo a collegarci con lei forse è caduto il collegamento mi dicono dalla regia che non ce l'abbiamo ancora e quindi io a questo punto passerei la eccola mi senti Antonella eccoci ciao Samantha ti avevo persa allora ho già fatto un intro ti ho già presentata e appunto oggi volevamo parlare di quello che è LinkedIn è corretto? niente da fare non riusciamo a parlare di LinkedIn ma ci provo io allora come ben sapete LinkedIn è un social che in realtà viene utilizzato a livello professionale per creare relazioni professionali quindi è un social ottimo sia per professionisti sia per ad esempio per tutti coloro che stanno cercando vogliono cambiare lavoro all'interno di questo social ci sono addirittura dei gruppi a cui si può accedere per creare delle competenze professionali specifiche per esempio un professionista si occupa di un avvocato quindi sarà all'interno di tutto un gruppo per quanto riguarda i social in tal senso ma io vorrei vedere se riusciamo a ricollegarci con Samantha perché chi meglio di lei ecco allora ve li commento io come vedete il LinkedIn se torniamo gentilmente indietro di una slide alla regia ecco come vedete è il settimo social più utilizzato ovviamente Facebook rimane tra i primissimi dopodiché c'è YouTube Instagram TikTok ma sono tutti social ex Twitter ora che viene si chiama X sono tutti social che hanno delle funzioni completamente diverse dedicate a un target completamente diverso e anche a un'età molto diversa quindi sarebbe stato bello riuscire con Samantha a commentare appunto con lei quello che è questo tipo di strumento davvero molto utile è molto interessante si possono tessere sia delle relazioni a livello di competenze professionali quindi delle professionisti che hanno collaborato con noi possono addirittura suggerirci e indirizzarci ad altri contatti all'interno che faranno sì che ci permetteranno di sviluppare le nostre competenze professionali e espanderci maggiormente è un social che va utilizzato quindi con una certa professionalità e cautela perché non è certo uno strumento dove si possono pubblicare le foto delle vacanze o dei post ironici anzi ecco come vedete quasi l'ottanta per cento dei membri di LinkedIn a meno di trentacinque anni perché perché stanno hanno magari terminato l'università e si sono messi nel mercato del lavoro quindi è un'ottima vitrina un'ottima visibilità per chi vuole presentarsi e divulgare le proprie competenze e professionalità e le competenze anche svolte all'estero i dati demografici se riusciamo a rivederli cortesemente la tabella precedente chiedo alla regia con i dati demografici non ce la facciamo ma allora mi sono sostituita Samantha Visentin per queste pillole di marketing oggi ecco quindi in Italia sono 15 milioni di utenti iscritti l'inclusione di foto LinkedIn in Italia per generare per genere ed età quindi vedete questi dati che sono viene utilizzato ma leggermente poco di più dalla figura maschile piuttosto che dalle donne perché è comunque un social che viene utilizzato da entrambi in maniera molto attiva volevo vedere la slide quella precedente che abbiamo saltato cortesemente e chiedo alla regia per commentarla quella con il grafico relativo ancora prima ne avevamo una che mi è sfuggita se potete rimandarla più indietro cortesemente va bene allora quindi mi sono oggi mi sono un po' sostituita Samantha Visentin con le sue pillole di marketing e quindi spero che mi perdonerete se non sono stata così esaustiva e professionale come come lei ecco quindi siamo tornati al al grafico dei per quanto riguarda i social eccolo qui quindi tornando anche un pochino a tutti i social che di cui abbiamo parlato in maniera precedente è uno strumento che può essere definito quasi una piattaforma professionale personale perché all'interno si può creare un vero e proprio sito ma tornando in studio e appunto desidero mi dispiace non siamo riusciti oggi ad avere il collegamento con Samantha Visentin ma lo faremo durante la settimana recupereremo in corsa perché ci teniamo ad avere la sua la sua versione professionale io do la parola a Francesco Pezzella e ci rivediamo più tardi sì Antonella interessante questo focus sui social tra l'altro mi stupiva intanto però è arrivata Samantha forse riusciamo a fare qualche minuto con lei velocemente di epilogo di queste cose ma vediamo che il collegamento purtroppo continua ad avere dei problemi quindi lasciamo lasciamo stare e dicevo però era interessante quel grafico dei vari social e della percentuale di utilizzo con YouTube che ha scavalcato Instagram quindi che secondo me è un dato che sarà utile commentare con Samantha perché sono due social diversi ma YouTube comincia a farsi largo proprio nel campo dei contenuti ovviamente video perché quelli sono non è tanto un social ma piuttosto è una piattaforma video dove però c'è anche interattività viene considerato un social e quindi è interessante scoprire questo e ha superato Instagram che è sempre dietro a Facebook ma nel tempo ha guadagnato molto spazio soprattutto tra i giovani insieme a TikTok c'è tutta una serie di analisi da fare molto interessanti sui social sia su come utilizzarli ma anche su come attecchiscono nelle diverse fasce di età a seconda dell'età c'è sicuramente un utilizzo maggiore di questo piuttosto che di un altro social Facebook Facebook è per le persone un po' più grandi ormai è stato il primo ed evidentemente è quello a cui sono legate le persone che hanno iniziato ad utilizzarlo ai tempi in cui è nato poi sono venute fuori queste altre piattaforme TikTok e Instagram che spopolano soprattutto tra le fasce di età più giovani interessante anche LinkedIn attraverso il quale sappiamo anche che si riesce anche a trovare lavoro perché è una vetrina che mette insieme l'offerta e la domanda perché chi cerca qualcosa sta di andare su LinkedIn e di poter individuare un profilo che magari gli può essere utile ci riproviamo ancora la vediamo Samma facciamo un tentativo così per non sprecare questo spazio senza riuscire a far dire qualcosa a Samantha dunque qualche minuto ancora ce l'abbiamo Antonella un paio di minuti per farle fare una sintesi di quello che voleva evidentemente dire ma che purtroppo il collegamento non ci ha consentito di farle fare appieno con piacere Samantha riusciamo ci senti riesci a vederci adesso sì io ti sento spero che voi mi scuso ma sono quei drammi del lunedì mi è saltata completamente la corrente e la connessione mi chiedo scusa a tutti ma ci mancherebbe non ti preoccupare io ho provato a sostituirti ma non chiaramente in modo professionale come te quindi ho fatto un breve riassunto per quello che riguarda i social grazie anche ai grafici che ci hai fornito fondamentalmente per riassumere rispetto a quello che ci hai inviato che cosa ci vorresti comunicare questo questo social linkedin che caratteristiche ha allora guarda linkedin è sicuramente il social migliore in assoluto se devi cercare lavoro o se ti vuoi connettere a delle persone dei nuovi potenziali clienti appunto con cui entrare in rete in connessione per poter far crescere il proprio business e la propria azienda quindi è un social veramente che penso che per il 70% sia veramente rispetto agli altri il modo migliore diciamo per poter entrare in contatto ripeto con i clienti potenziali è un social però che mantiene una certa delle caratteristiche molto particolari soprattutto da un punto di vista dell'algoritmo ecco mettiamola così quindi bisogna fare delle cose molto precise per riuscire poi a farsi vedere perché è un social dove l'algoritmo è molto severo quindi è molto importante ad esempio compilare in tutte le parti il proprio profilo metterci delle parole chiave fondamentali se mi occupo di marketing appunto le parole chiave dovranno essere marketing potranno essere strategia di marketing tutte quelle parole chiave che utilizzano gli utenti per cercare i propri interessi sul social è un social che va presidiato molto meno di facebook e linkedin basta veramente postare due contenuti alla settimana ma costruiti in maniera molto diversa c'è un post deve essere molto lungo deve avere almeno 3000 caratteri quindi è veramente un post molto lungo molto complesso però ha un'efficacia veramente devo dire vantaggiosissima per trovare lavoro per cercare i clienti rispetto ai social tradizionali ecco abbiamo visto poi anche una classifica dove abbiamo commentato assieme a francesco pezzella che dopo facebook il secondo social che ha superato ormai anche instagram è troviamo youtube come mai accade è accaduto questo ci sono davvero io penso perché scusami ci sono davvero talmente tanti creator che hanno trasformato quasi in professione perché comunque creare dei veri e propri video da pubblicare su youtube è quasi diventato un lavoro certo sono canali molto diversi tra di loro anche perché fare video su youtube richiede veramente dei tecnicismi anche che non tutti hanno a disposizione e richiede anche un impegno che non tutti hanno a disposizione facebook e instagram sono diventati diciamo anche dei diciamo social dove la polemica è all'ordine del giorno e dove c'è veramente di tutto e di più quindi vanno filtrate un po' le informazioni quindi se io sono un professionista un imprenditore o sto cercando un lavoro chiaramente vado a presidiare un canale come linkedin che è molto più serio passami il termine è un social molto più dove veramente non si scade nella polemica dove si tira fuori un po' il meglio di sé anche in questo senso e dove le persone vanno per stringere relazioni e far vedere un po' quello che sanno fare senza tutto il brutto che invece c'è negli altri canali social e soprattutto ripeto le persone stanno veramente lì perché vogliono creare relazioni di lavoro e di business cosa che magari negli altri social non succede ecco perché è più piacevole presidiare un canale del genere quando sto pensando appunto a migliorare le mie performance produttive insomma in ambito business piuttosto che gli altri canali bene allora noi ringraziamo comunque Samantha Visentine per essersi alla fine riuscita a collegare con noi ci dispiace se non siamo riusciti a darti e dedicarti tutto il tempo che avevamo previsto ma avremo modo di recuperare grazie davvero Samantha ci rivediamo la prossima settimana con le tue pillole digital e noi ora andiamo in pubblicità e ci rivediamo subito dopo eccoci qui oggi si celebra la protettrice dei Vigili del Fuoco Santa Barbara in tutte le caserme d'Italia si celebra e si festeggia questa ricorrenza e noi siamo con Luca Ursig ad Udine presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco per raccontare di questa festa a fare il bilancio dell'attività dei Vigili del Fuoco e anche ascoltare un'intervista che il nostro Luca ha raccolto con il comandante vero Luca buongiorno buongiorno a te Francesco prendiamo la linea dalla sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco a Udine dove questa mattina è stata celebrata la ricorrenza dedicata a Santa Barbara la santa protettrice la santa patrona dei Vigili del Fuoco una circostanza molto sentita che ha visto la presenza di numerosi operatori del corpo nazionale così come tante autorità sia civili che militari della regione e della provincia una mattinata che ha preso il via con la deposizione di una corona dall'oro in corrispondenza della lapide dedicata a tutti i Vigili del Fuoco che hanno perso la vita durante lo svolgimento della loro attività del loro servizio proseguita poi con la Santa Messa celebrata dal Monsignor Ezio Giaiotti a seguito della quale poi è intervenuto il comandante provinciale Giorgio Basile il quale ha innanzitutto ringraziato tutti coloro che quotidianamente offrono e poi un loro servizio in favore della cittadinanza della comunità sottolineando i numeri un'occasione quindi per fare il bilancio sui numeri registrati in quest'ultima annata numeri importanti numeri pesanti perché come ha sottolineato il comandante il 2023 verrà ricordato come l'anno più complesso più complicato dal 1976 a fronte delle calamità che hanno colpito il territorio regionale il territorio provinciale 10.209 il numero degli interventi effettuati in regioni più 26,4% rispetto ai 12 mesi precedenti ascoltiamo comunque le parole del comandante per il bilancio completo poi ti restituisco la linea Francesco decisamente a seguito soprattutto degli eventi legato al maltempo quest'anno abbiamo avuto oltre 10.000 interventi già arrivati al 2 di dicembre questo non è mai successo possiamo annoverare senza dubbio questo come l'anno più impegnativo per i vigili fuoco dal terremoto del 76 interventi legati diciamo al maltempo quest'anno abbiamo avuto quasi il 500% in più rispetto all'anno scorso sui distretti statici circa il 20% in più legato alle alluvioni questi dati sono molto significativi visti anche da un certo punto di vista rispetto agli incendi su prodotti boschivi diminuiti rispetto all'anno scorso però gli incendi boschivi dell'anno scorso e le alluvioni le grandinate il forte vento di quest'anno non sono altro che due facce della stessa medaglia che è il cambiamento climatico quindi noi come vigili fuoco ci siamo trovati in prima linea ad affrontare questa nuova sfida sì diciamo che questa è un approccio senza dubbio istituzionale ma è fortemente presente il carattere familiare questa è una festa in famiglia dove tra l'altro diamo anche i premi diciamo i riconoscimenti per le anzianità o per le persone dei colleghi che sono andati in congedo quest'anno è stato caratterizzato come si diceva da grandi eventi e quindi anche da un impegno straordinario del nostro personale che per poter rispondere soprattutto agli eventi meteorologici del 24 di luglio per diverse settimane ad avere straordinari in modo tale da fare turni oltre le 12 ore quindi 24 ore di turni consecutivi e questo dovuto grazie al sacrificio alla alla determinazione e al buon cuore di Vigile del Fuoco ringraziamo Luca Urzig poi tra un attimo torneremo a collegarci con Angela Caino per fare il punto di nuovo sulla frana in Carnia ma vogliamo ripartire con una notizia della quale sicuramente si parlerà molto nei prossimi giorni andiamo sul sito dell'ANSA perché ricordate quel gioielliere in Piemonte nel Cuneese che uccise due banditi e ne ferì un altro durante un tentativo di rapina alla sua gioielleria ebbene è stato condannato a 17 anni di carcere Mario Roggero sparò dopo la rapina subita a Grinzane nel Cuneese l'irruzione nel suo negozio alla fine di aprile 2021 il terzo rapinatore ferito riuscì a fuggire e fu arrestato poche ore dopo l'accusa aveva chiesto una condanna a 14 anni ne è arrivata una invece a 17 vediamo un po' se ci sono ulteriori particolari e su questa notizia che come diciamo sicuramente non mancherà di far nascere un dibattito molto acceso sul tema della legittima difesa 17 anni di carcere che sono stati infitti dalla Corte Rassise di Asti nel processo Mario Rogero 68 anni morirono Giuseppe Mazzarino 58 anni e Andrea Spinelli 44 anni il terzo rapinatore invece Alessandro Modica ferito a una gamba riuscì a fuggire e fu arrestato poche ore dopo il pubblico ministero greco aveva chiesto una condanna a 14 anni la parola difesa leggiamo quello che scrive il pubblico ministero Davide quello che aveva dichiarato il pubblico ministero Davide Greco nella sua requisizione stona con un video in cui abbiamo visto un'esecuzione Rogero ha sostenuto di aver sparato quattro colpi contro l'auto parcheggiata dai rapinatori perché temeva che i banditi avessero preso sua moglie le ero passato di fianco con la pistola in mano senza vederla ancora adesso sono rimasto stupito quando ho visto i filmati non ho quel fotogramma in testa e ancora Rogero pensava di dovessi scontrare ad armi pari per liberare la moglie dalla stretta dei rapinatori ha insistito anche il suo legale l'avvocato Dario Bolognesi chiedendo la soluzione per legittima difesa putativa ed evidenziando il trauma conseguente a una precedente rapina tutti gli psichiatri hanno rilevato tratti di personalità disarmonici in Rogero parlando di rigidità e aspetti di conducibile a una personalità paranoide ecco e in base a tutti questi dati alla fine è stato condannato a 17 anni di carcere per aver reagito tentando di farsi giustizia da solo ammazzando due rapinatori e ferendone un terzo allora prima di tornare a collegarci con Angela Caino ieri al Blue Energy Stadium in Auditorium abbiamo incontrato e intervistato Mario Giordano il popolare conduttore televisivo della trasmissione Fuori dal Coro che ha presentato il suo libro Maledette Iene intervistato da Giuseppe Cruciani il re della Zanzara abbiamo intervistato Mario Giordano poi vi mostreremo nei prossimi giorni l'intero evento che è andato in scena in Auditorium prima della partita tra Udinese e Verona sentiamo Giordano sul suo ultimo libro Bianconero non è il tuo colore preferito però questa maglia la gradisci la maglia di Udinese la gradisco Bianconero potrebbe essere un tifoso del Toro e quindi sono per i colori Granata però questo Bianconero dell'Udinese sì mi piace poi mi piace molto l'idea di unire iniziative uno stadio che vive non solo per la partita ma anche per altri anni sembra una bella iniziativa la prima volta che vado a parlare all'interno di uno stadio e questo ancora per vestirla con ancora più orgogli ecco questo incontro allo stadio è stata l'occasione per presentare il tuo ultimo libro anche se Giuseppe ha parlato di tutt'altro però proviamo noi ad andare sul tema del libro Maledette Iene il senso di questo titolo e quando nasce questa esigenza di mettere in un libro quello che avviene purtroppo da qualche tempo a questa parte ma io ho questa tendenza da sempre di raccontare le cose che non funzionano rispetto a quella che è la situazione attuale mi sembra che l'emergenza drammatica di questo momento sia quella di una divisione di ricchi che diventano sempre più ricchi e poveri sempre più poveri una separazione una polarizzazione e molto spesso chi si arricchisce si arricchisce alle spalle delle persone che sono più povere e spesso lo fa in modo non corretto ingiusto ecco allora ho sentito l'esigenza di andare a raccontare facendo nomi e cognomi quelli che si arricchiscono che non usano la ricchezza perché la ricchezza è una cosa bella se la ricchezza viene usata per l'appunto per fare cultura per fare sport per fare società per abbellire il paese se invece viene utilizzata per ridurre le persone in difficoltà ancora più in difficoltà allora va denunciata facendo nomi e cognomi questa è l'esigenza che ho messo nel libro questa è una terra particolarmente sensibile ai temi dell'immigrazione anche in questo si può annidare il rischio di avvolto e poi iene assolutamente sì questo mito dell'accoglienza che in realtà poi accoglienza non è perché che accoglienza è come dicevamo prima con Ciccianni che accoglienza è se poi chi arriva viene abbandonato ai margini della strada messo nelle mani dei delinquenti però dietro questo fenomeno dell'accoglienza si nascondono tante iene sono a cominciare dai trafficanti che guadagnano l'arrivo quelli che sfruttano le baraccopole non è possibile che un paese come l'Italia tolleri le baraccopole le tolleri perché ci sono i caporali ci sono le associazioni criminali che usano quella mano d'opera criminale e poi ci sono le associazioni finte di solidarietà che in realtà fanno business sulla finta solidarietà solo ieri a Milano se ne è scoperta un altro uno dei più grandi centri di Milano che veniva gestito in modo fraudolente 8 milioni di euro per arricchire se questa secondo l'accusa e le istituzioni che hanno fatto chi li gestisce non per curare davvero le persone quindi vedete quante iene nel processo i trafficanti gli sfruttatori del lavoro e gli sfruttatori della solidarietà quindi è proprio il fenomeno forse più emblematico di quello che nasconde iene e maledette iene e avvoltoi e sanguisughe e tutti i libri che voglio che ho raccontato quindi su Maoro e i suoi intoraggi sono iene su Maoro nel momento non è indagato però è sicuramente uno che non ha visto uno che si proclama come difensore dei diritti degli immigrati e poi non vede quello che succede con la moglie e con la suocera la moglie e la suocera secondo quello che risulta delle carte sono uno di questi fenomeni che appunto sfrutta gli immigrati non per accoglienza non per solidarietà ma per acquisti in negozi di lusso per spese per vini di lusso vini di pregio per fare la bella vita dicendo di fare la solidarietà io credo che questa sia una delle cose peggiore perché gli italiani vengono descritti come lui gli italiani sono solidari gli italiani sono un popolo accogliente e quelli che però usano l'accoglienza per fare gli interessi loro e quelli che sfruttano il cuore degli italiani per farli ma per loro sono forse fra tutte le iene le più disdicene un'ultima cosa puoi ti lasci andare prima hai accennato alla polarizzazione dal covid in poi abbiamo assistito a polarizzazione su tutto senza entrare nel merito dei vari argomenti su cui si è generata la polarizzazione come ti spieghi questo fenomeno? Mi spiego col fatto che siamo sempre più in una situazione dal covid in poi è evidente non solo col covid ma col covid è stato evidente di impostazione di un pensiero unico e di impossibilità di dire qualcosa che sia di diverso rispetto al pensiero unico è sempre più pressante e l'abbiamo visto sul covid ora lo stiamo vedendo sull'emergenza climatica l'abbiamo visto sulla guerra russo-utraina c'è un pensiero unico ci sono le parole d'ordine che vengono impostate ed è sempre più difficile avere il cosiddetto pensiero divergente dire lupure invece penso che noi i nostri vecchi i nostri anziani i nostri genitori hanno costruito questo paese meraviglioso pensando con la loro testa e non mandando il cervello all'ammasto e io scrivo libri e vado in giro e sono contento che ci siano iniziative di questo genere perché penso che il nostro primo dovere sia quello di non mandare il cervello all'ammasto ma di continuare a pensare con la nostra testa queste le parole di Mario Giordano che abbiamo incontrato ieri in auditorium e poi trasmetteremo l'intero evento come detto in questi giorni una intervista di Giuseppe Cruciani vede la zanzara Mario Giordano in cui si è parlato del libro ma anche di tanto di tanto altro negli eventi prepartita al Blue Energy Stadium tra un po' saremo pronti con Angela Caino vi faccio vedere di nuovo la notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione di ore 12 perché si è parlato di Udine che è risultata nell'analisi del Sole 24 ore pubblicata oggi prima come provincia oltre che come città per qualità della vita il sindaco rettore ha subito convocato una conferenza stampa che abbiamo seguito e abbiamo trasmesso anche l'intervista con il primo cittadino dicendo un traguardo che riguarda tutto il territorio in effetti è così chi vorrà approfondire il testo di questa intervista potrà farlo sul nostro sito www.udinesetv.it oppure www.tv12.it ma anche attraverso Facebook e attraverso ovviamente il nostro canale televisivo con i notiziari che daranno ulteriore spazio a questa bella notizia per la città di Udine che ha scalato le classifiche di vari settori riuscendo a mettere insieme i numeri giusti per essere considerata la prima come provincia quella di Udine per qualità di vita nel nostro paese un bel risultato senz'altro torniamo adesso in Carnia in montagna con Angela Caino per parlare di nuovo della frana e per parlare di quelle che sono le conseguenze che la frana ha generato e genera sulla vita di questi paesi che sono coinvolti da un'interruzione totale della viabilità da e verso l'Austria e poi anche per iniziare a parlare di quello che si poteva fare che non è stato fatto e che quindi andrà evidentemente fatto in futuro per evitare queste situazioni a te Angela sì eccoci Francesco noi siamo assieme a Matteo De Cecco che è dottore forestale e che nei decenni passati si è occupato a lungo anche perché è stato nell'amministrazione comunale di Paluzza di questi progetti alternativi alla statale 52 bis Carnica per andare in Austria quindi alle alternative del passo di Monte Croce in particolare questa ipotesi di cui si parla da un po' di anni è che prevede un nuovo tracciato le chiediamo visto che abbiamo le montagne alle nostre spalle di spiegarci un po' che percorso dovrebbe fare questa strada alternativa la strada alternativa alla salita al valico di Monte Croce Carnico è data da un'ipotesi di fattibilità di tracciato studiata con l'ingegner Puntel di Giovanni di Cleulis che ha predisposto un'alternativa vera e propria all'attuale risalita al passo di Monte Croce Carnico attraverso la 52 bis attuale allora giusto per mostrarla il passo la strada 52 bis Carnica in questo momento corre sulla destra invece la nuova strada dovrebbe correre un po' sulla sinistra più o meno guardando il versante l'ipotesi di questa strada alternativa si sviluppa in destra idrografica del rio Colinetta e risale il versante grosso modo su quel bosco di faggio più scuro che voi vedete fino a confluire nei prati sottostante Malga Colinetta di sotto che è prospiciente il passo di Monte Croce Carnico abbiamo anche una cartina vediamo se riusciamo a raggiungerla eccola qua e su questa cartina con le immagini del nostro romano urbani forse riusciamo a vedere meglio il percorso ce lo spieghi la strada ipotizzata in alternativa all'attuale 52 bis che è fatta dai famosi 12 versanti dei 12 tornanti che risalgono il versante sud del Monte Palpiccolo la strada in alternativa si sviluppa dal terzo tornante dell'attuale 52 bis si sviluppa quindi sopra l'attuale cava di marmo di grigio carnico e quindi risale il versante fino al malpasso cosiddetto che è una bancata calcarea verticale per passare la quale è previsto un tratto in galleria che sfocia fino nei prati sottostante il passo di Monte Croce Carnico e per arrivare infine nel parcheggio di Monte Croce Carnico in questa maniera si viene a evitare il pericolo attuale come è stato dimostrato dall'attuale frana caduta due giorni fa e che interessa appunto il versante sud del Monte Palpiccolo che è caratterizzato appunto da bancate calcare verticali spesso anche in franappoggio che sono incombenti sull'attuale tracciato del 52 bis ecco questo è il progetto di fattibilità uno studio di fattibilità che è stato realizzato e che forse potrebbe essere ripreso in considerazione per mettere in sicurezza definitivamente questo passaggio posso dire solamente che questo progetto redato dall'ingegner Puntel Giovanni era stato presentato anche alle autorità austriache in particolare ai referenti dell'assessorato alla viabilità era stato accettato e naturalmente loro si aspettavano che si spendesse su questo progetto sia l'amministrazione comunale di Paluzza sia l'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia purtroppo il progetto è stato disatteso anche se mi risulta che c'era una certa approvazione da parte degli organi superiori dell'ANAS e vedremo se tornerà in campo anche questo progetto Francesco noi ringraziamo Matteo De Cecco prima di restituirti la linea ricordo che questa sera nel corso di Tam Tam a cura di Alberto Terasso torneremo sul tema del passo di Monte Croce Carnico con l'ingegner Carpenedo e adesso Francesco se ci sono i tempi io direi di andare a sentire anche le voci che abbiamo raccolto questa mattina a Paluzza e a Timao se invece siamo stretti magari le risentiremo nel corso delle nostre finestre dedicate all'informazione da Timao è tutto Francesco a te la linea grazie grazie Angela siamo un po' fuori tempi ma andiamo in onda magari le persone che abbiamo ascoltato se le aspettano Antone le anticipiamo velocemente i saluti a questo punto poi daremo la linea alla vox realizzata tra Timao Paluzza e le località colpite da questa da questa frana e dall'interruzione della strada e poi ci vedremo con i nostri telespettatori domani sì certo allora domani come sempre come tutti i martedì abbiamo gli aggiornamenti in pillole di Marino Firmani e avremo in studio Silvia Bianco la curatrice della mostra in partenza il 7 dicembre di Gino Valle questo importante architetto riulano avremo come sempre la ricetta e non ci resta che augurarvi una buona giornata e noi ci vediamo come sempre domani allora Vox dalla Carnia da Timao Paluzza raccolta da Angela Caino e la lanciamo adesso dopo andare in onda la sigla ci vediamo domani mattina alle 12 di nuovo in diretta nel corso della giornata lo sport anche che oggi non siamo riusciti ad inserire in queste nostre due ore piene di notizie e di approfondimenti nel pomeriggio calcio dalle 15 ancora Udinese questa sera il TG delle 19 e poi il TG regionale con il Tantam a seguire che si occuperà ancora una volta del caso di questa frana e della Carnia che vede interrotta la viabilità da e per l'Austria vox e poi sigla arrivederci strada chiusa la vostra attività ne risente? siamo siamo un albergo ristorante il passaggio è molto frequente per su questa strada abbiamo anche tanti dell'est che passano si fermano a dormire diciamo che è abbastanza preoccupante anche perché i tempi non si sa come sono possono essere molto lunghi può essere un anno ma non so il lavoro è sempre lavoro e se speriamo che si risolva più presto certo abbiamo già la prospettiva che sia una cosa abbastanza lunga ecco d'inverno magari c'è un po' di meno passaggio anche se c'è comunque un po' di gente che viene qua per sciare anche sullo Zoncolan per l'estate invece la preoccupazione è maggiore perché c'è più passaggio certo per l'estate c'è molto passaggio vengono anche dall'Olanda dall'Usemburgo è un passaggio la strada è bellissima il panorama è anche bellissimo è anche più corto e allora la gente usufruisce di questo passo per non fare autostrada e poi di conseguenza o di ripor qualcuno si ferma anche più di qualcuno a mangiare da noi o anche a dormire quanto accaduto ha riaperto il dibattito sulle strade alternative alla 52 bis il tunnel un'altra strada alternativa va a voi come vedete questa questione diciamo che il tunnel era la cosa più semplice la cosa più fattibile la cosa più anche più sicura perché anche la strada alternativa la strada romana le spese e il lavoro è lungo lo stesso io il tunnel è forse la cosa più più sicura la strada del passo di Montecroce è chiusa Timao è l'ultimo appunto l'ultimo paese sul versante italiano com'è la situazione in questi giorni? la situazione per quanto riguarda il traffico in questo periodo non è che risentiremo più di tanto tutto dipende da quanto tempo dovranno aspettare per riaprire la strada adesso secondo me bisognerebbe valutare bene cosa c'è ancora di pericoloso che potrebbe venire giù mettere in sicurezza il versante dove si è staccata la frana poi la strada si potrà ripulire quindi dipende tutto da quello che c'è ancora lassù bisognerà fare dei sopraduoghi e valutare bene la cosa e dopo decideranno cosa fare se questa estate sarà ancora chiusa ne risentirete un po'? sicuramente sì perché qua d'estate c'è un passaggio c'è traffico specialmente di tedeschi anche da Monaco che passano di qua ma io penso che per questa estate una soluzione la troveranno ecco risistemare la strada ma ci sono anche altre ipotesi di cui si parla da tempo il tunnel ma anche un'altra ipotesi lei come la vede? no ci sono varie correnti di pensiero cioè il tunnel se ne parlava già anni 60 70 poi non si è fatto per vari motivi ci sarebbe una soluzione ma non so se è fattibile la vecchia strada romana vedere se se è possibile fare un tracciato in quel versante però ci saranno dei tecnici degli ingegneri che valuteranno il tutto e poi vedremo come va di cosa c'è bisogno? cosa bisogna metterla in sicurezza quello senz'altro e dopo sì la cosa più veloce e dopo vedere prendere provvedimenti altri alternative delle strade alternative? non ne vedo non ne vedo parlano del tunnel ma è un'utopia per me perché di là non hanno orecchio e dopo solo mangiare soldi pesa la chiusura di questa strada voi intanto io che ho mia figlia che abita in Austria mi tocca fare il giro per dove va? eh Tervizio un po' lunga a lungo di 200 150 km 3 3 Grazie a tutti.